Oltre 600 pizze sfornate, 4 ragazzi dell'Opera Dongonella al Forno e una quarantina di ospiti di onore indirizzati dalla Caritas Diocesana di Napoli. Parliamo dell'azione solidaristica organizzata dalla pizzeria Brandi in occasione del 130esimo compleanno della Pizza Margherita. Pizza come pranzo del povero e non sfizio del ricco, come dice Paolo Pagnani, che insieme al fratello Edoardo ci spiega il senso di questa bellissima iniziativa. È un'epoca in cui oramai alcuni valori vengono sostituiti da cose mediatiche, da cose pubblicitarie e si perde un po' il senso perché non dimentichiamo che la pizza è nata non solo come lo sfizio del ricco, come si diceva una volta, ma soprattutto come pranzo del povero. E quindi noi ci rialliacciamo a questa cosa, volendo abbracciare la città, la nostra città che ha tante difficoltà, che ci sono tante persone meno abbienti, di dare l'opportunità di dare un segnale di solidarietà, di accoglienza verso le persone meno fortunate, verso le persone più disagiate. Era già nell'aria di dover fare una festa, abbiamo poi pensato di fare qualcosa di diverso, essendo noi già stati in contatto con la Caritas per altre operazioni di questo tipo, qual era il momento migliore per dedicare ai nostri fratelli meno fortunati un momento particolare? E quindi abbiamo deciso di fare insieme a loro, con loro, con la benedizione anche, abbiamo appena ricevuto la benedizione del Cardinale Sepe, in questo momento di convivere, condividere con loro questa nostra gioia per i 130 anni della pizza Margherita. È una bella occasione, non solo per ricordare un compleanno importante, ma averlo condiviso con la città di Napoli e non solo con tutti i cittadini e i turisti che oggi apprezzano per l'occasione il compleanno, ma anche con dei giovani che magari possano avere un'opportunità importante, quindi pizza legata anche al sociale ed è un binomio, credo, molto efficace ed importante per la città.